si è perso, questi sono tre teplani, ti puoi leggere tutto, non me li puoi dare? no, perché l'ultima copia che c'ho, sono tre copie diverse, ok? se no guardo una foto, leggi per strada, lì mi dimentico la coscia di San Michele la coscia di San Michele? vedi, si ma aspetta sta a piedi della montagna, perché la faccio? poi c'è la canta su un bel bordo si ma a piedi non la lascio a salire non ti spiega perché questa canta non c'è la canta la coscia di San Michele la coscia di San Michele sta a piedi della montagna ci si dove non si bagna non c'è la canta vai e per l'amore di Gesù poi la patata qua ci piove non si bagna e per l'amore di Gesù e per l'amore di Gesù e per l'amore di San Michele che significa? tutti quanta ogni piede di San Michele e tutti quanta strada lo capito? poi dopo quando è finita la canta non la proviene poi la coscia e la mal di San Michele pensa qui se ci trova sta a piedi della montagna ci piove non c'è la canta e per l'amore di Gesù ci piove non si bagna e per l'amore di Gesù ci piove non c'è la canta ci piove non c'è la canta e per l'amore di Gesù e per l'amore di Gesù sta piena montagna se piove non si bagna e per l'amore di Gesù se piove non si bagna e per l'amore di Gesù poi c'è un'altra strofa un'altra strofa ma pure chi muore perché San Michele sta coperto dalla montagna quindi se piove non si bagna poi c'è una testa si muore e si vive puoi fare cucina e chi non viene da vivo ci deve venire da morte a visitare la grotta per cercare la carità ma questo si significa questo no quando qualcuno ci ha aiutato da vivo non è una volta cioè se io da vivo non sono stato devoto non è inutile che ci vado da morte ci vado da morte ma guarda cosa ti hai fatto io vai a cercare la carità tu ci vedi pure da morte vai a cercare la carità se non c'è capito se tu non sei credente da vivo dici sei credente da perché ci vedi da morte capito e questa cosa si faceva tutta la e questa cosa si faceva tutta la